Un brindisi per la legalità si è tenuto oggi a Napoli in piazza del plebiscito per festeggiare la conferma della cassazione dei 16 ergastoli al clan dei Casalesi, inflitti dalla Corte d'Assise d'Appello di Napoli nel 2008 nei confronti dei vertici dei clan dei Casalesi nel processo Spartacus. Ad organizzare l'iniziativa Francesco Borrelli dei Verdi, Maurizio De Giovanni scrittore Rino De Martino, titolare della libreria Treves e Maria Borrelli, presidente dell'associazione Napoli Buona. Sui nostri territori, spiega Borrelli, questa sentenza storica è vissuta come un qualcosa di negativo. La gente non avverte l'importanza della decapitazione di un clan così importante e feroce. Per questo abbiamo deciso di organizzare questo evento e di distribuire delle spillette contro i Casalesi. Francesco Borrelli oggi in piazza per la legalità. Sì, noi abbiamo organizzato questo mega brindisi con imprenditori, politici, membri delle associazioni, scrittori per gridare la nostra soddisfazione per la condanna ai Casalesi, urlarlo perché oggi se si dice che si è contro la camorra la gente abbassa lo sguardo o molto spesso ha paura addirittura di pronunciare questa parola. Invece noi lo vogliamo urlare al mondo intero che siamo contenti che questi camorristi sono stati condannati. questa manifestazione nasce da un'istanza forte che è quella di far vedere che la società civile sa bene chi sono i buoni e chi sono i cattivi in questa città. A fronte di una vittoria dei buoni si deve festeggiare. Questo è un simbolo, noi sappiamo bene che questi uomini sono già stati sostituiti nei loro organici ma tutti devono sapere che esiste questa sensibilità sociale e che noi siamo attenti, la cultura soprattutto, perché dalla cultura ricordiamoci che dal romanzo di Roberto Saviano al quale idealmente ci rifacciamo e che abbracciamo in questa occasione come ogni volta che scendiamo in piazza, è dal romanzo di Roberto Saviano che nasce la sensibilità della società civile su questo argomento. Quindi il lavoro dei magistrati, il lavoro dei giornalisti, il lavoro degli scrittori attorno a questo argomento deve sapere che vicino a loro, alle loro spalle, la società civile è presente. Il suo lavoro? Il mio lavoro personale verte su altre epoche e su questa città. Diciamo che idealmente è questa città che collega, il contesto di questa città che collega il mio lavoro e la mia sensibilità sociale e civile a quello che sta succedendo in questi giorni.